Direi che ci siamo, direi che ci siamo, controlliamo se si sente tutto bene, pronto? Puh, sì, la mia voce è potentissima, si sente, si sente, oh, è la cosa migliore. Ciao a tutti, un saluto da Jack, Leon e Max, ritornato con il gioco dei giochi, il Crash Bandicoot 4, per conquistare il mondo. Ecco qua, siamo a livelli nuovi, livelli estremi, e sono tutti livelli che non ho mai giocato, quindi si va avanti. Sì, siamo avanti benissimo, allora, eccoci qua, eccomi, perfetto, sta caricando intanto. Ok, ok, ci siamo, ci siamo, perfetto, ok, allora, minimo che mi scrivo anche da qua, ciao da qua, ok, perfetto, funziona tutto, ok. Allora, torniamo avanti con Crash, non perdiamo molto tempo, siamo alla terza zona, le cascate della tranquillità, che non sono, però, allora, fa con calma, eh, con tutta la calma del mondo, sicuramente, tutta la calma del mondo. Ok, perfetto, ok, 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 ci siamo, allora, ecco qua, fissa questa, perfetto. Oh, che bello, nuovo livello, cosa ci aspetta? Le, le casse esplosive, subito all'inizio, e che cavolo, manco il tempo di fiatare, che subito, bam, 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 ti spara subito questo, ci proviamo, eh, voleva, eh, voleva proprio, non c'è? Nooo, adesso salta tutto, si è reso conto che non ho mai fatto livelli con Cocco, non è che cambia nulla, però. oh, 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 pericoloso quello, via 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 via, urca, wow, quanti livelli? 139 casse ci sono, e non le prenderemo tutte, assolutamente no, non è la prima volta che lo giochiamo. Vong Cosa serve? È solo musica? Sembra tipo il livello di pura Di crash bandico Tre ma senza Senza la tigre Il che è tutto tranne che è buono È già arrivato il ride Che velocità clamorosa Tizio come? Ciao ma ciao come mai non hai fatto la live? Grande tizio Ah era un test Io pensavo facevi una live Io all'interno potevo seguirla Tanto ok Bene bene allora poi Fall Guys giochiamo insieme Tranquillo vediamo un po' Ciao ciao L'hai mai fatto sto livello? L'hai già fatto sto livello? Lo conosci? Io sono Adesso sono tutti nuovi Devo impostare tutto Perché so che avevi fatto quello precedente Già fatto? Eh bestemmiato si guarda Sono già morto due volte Ole Primo checkpoint Allarme Ciao Stefano è partito l'allarme Faccio anche sentire questo qua Domani torno con la cam Però domani Sarò live Alla mattina Domani alla mattina Al pomeriggio C'è tizio Ci sono coin e tizio Sui tipi della notte Adesso lo mettiamo Adesso lo mettiamo Tizio Lo mettiamo Lo mettiamo Non ho ancora letto Mi fido di te Che non mi metti cose strane Mi fido di te Pro dell'altro giorno Che era terribile Ma non è colpa tua Sì Alzo Buongiorno carissima Mi dispiace non le sto sicuro Oh niente Non le piace Non è di suo gradimento Bassi gli alert È normale È normale È normale È normale Le cuffie non captano Tanto quanto il microfono Che uso di solito Ma domani Tanto domani Sono con le mie cose Questo qui non si può fare niente No Danneggio No Non può Oh mamma C'è questo qua Di nuovo Ma sto livello È bestemmioso Che dite Io non bestemmio Però Sto livello È bestemmioso Oh No Non me l'ha preso Ste cuffie No no Queste sono robe professionali Aspetta Queste sono le cuffie Da gaming Non sono Ciao Alex Sono buone cuffie Cosa stai dicendo Sono cuffie da gaming Cosa stai dicendo L'ho pagate 50 Che cavolo Oh ma guarda qua Cosa c'è qui Non l'avevo neanche visto Ecco qua Come va Come va Alex Come stai Come va la tua stanza È smontata No Non è vero Sono cuffie pro Cuffie da pro Gamer Che io non sono un pro gamer Però Perché sta cosa del pro Ha anche rotto i tre quarti Ormai la cosa È il pro game Sentiamo 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 il beat Cosa dice Domani Ma di Ma Bello Grazie Ma non sentite alto Il volume di gioco Credo Non penso che sia alto Il volume del gioco Ditemelo voi Se sentite alto Io non lo sento alto Posso sempre fare Posso sempre fare nove Ok Comunque Cocco bello Cocco fresco Ma perché è caduto giù? Che gli è successo? Ah mi fa partire Qua Vado a capire Un Due Cocco bello Cocco fresco Cocco bello Cocco fresco Eccola qua Passato Dai La possiamo fare No 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 Ah Grazie Non ho ancora sentito Adesso lo metto Un attimino Adesso lo metto Lo metto Lo metto Lo metto Lo metto Sentiamo Come sapete Poi domani Si torna col microfono E tutto Ma la mattina Si Alziamo Alziamo Non è il sosia di google È google È proprio google Esatto È proprio lui Comunque google traduttore Allora Prima di tutto Stefano Allora Alexa volume 8 Che morti Che coraggio Io ci voglio andare A san pier d'arena Con classe Voglio andare Anche se lui mi ha detto Che se ci vado Mi lascia là Mi lascia là E poi ti arrangi Oh guarda che sono Sul bordo Della mappa No No Cos'è sto cosino Ah non lo prende Cos'è sta storia Oh Alziamo Alziamo No 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 710 Così tanti Siano già Mamma mia Tu sai cosa succede Quando arrivi A mille Vero Hai una gallina Statica Per sempre Con te Ma Non aver fretta Non c'è nessuna fretta Non c'è nessuna fretta Alza le mani Alza le mani Alza le mani Allora Fatemi fare una cosa Istantanea Veramente Roba veloce Allora Pom pom Oh Incredibile Sono morto No Alza Ventiamo Cocco bello Cocco fresco Sentiamo Sentiamolo Voglio proprio sentirlo Oh no Attenzione Sentiamo Sto cocco Lo stavo mettendo Sto cocco Ok Eccolo qua Grazie per il Sì Come vuoi Come vuoi Guarda E' fresco E' fresco E' fresco Ti posso Ti posso Ah Guarda Ti posso Assicurare Che non Mi dà Fastidio Non mi dà Fastidio I bit Puoi mettere tutti i bit Che vuoi Che non ho alcun Fastidio Di nessun genere Anzi Anzi Apprezzo Perciò veramente Grazie mille I bit Sono carini Sono carini A me non annoia Non mi costa nulla Veramente nulla A mettere qua Veramente la cosa più veloce del mondo Fatemi solo un secondo Che faccio una cosa Se scatta Ecco fatto Scattato Scattato Cocco bello Cocco E' un po' complicato Via te No non mi lascia Vai via te Ok ce l'ho fatta Cocco fresco E che è? Ah ma sono io E' la mia voce E' la mia voce Ma chi è questo? E poi ho scoperto che sono io Sì sì Lo so benissimo Lo so benissimo Cavolo se lo so So lo so Ci leggo un nome Cioè voi ci vedete un pagliaccio Io ci vedo Ci leggo un nome Ci leggo un nome Quindi assolutamente Ok andiamo avanti Questo è difficile Mi sa Gira Oh invece no Era facilissima Cos'è? Ah non devi mai morire Per ottenere la schedina Vabbè Quindi devo farla Senza mai morire Fino a sto punto Inizia a diventare tosta Ma va che cade giù Ah beh Cade giù E non usce niente Che faigo Non è successo nulla Puoi cadere giù Quanto vuoi Bellissimo Guarda eh Cocco bello E cocco fresco Alex annuncia Ma chi diavolo è sto qua? Ah ma sono io Ma chi diavolo è questo qua? Ah ma sono io Esatto esatto Sono io Ma sentite due volte È normale Ah Cade giù Ma cos'è? Arti marziali Questo No non era per te L'annuncio In casa Sta dando fastidio Gli annunci Non so perché Eh beh Tutta la casa Sente gli annunci E' quello il problema C'è Tutta la casa Partono Alexa Che mettono cose Quindi Il cocco bello Cocco fresco Non ci credo Sentiamolo Cocco bello Cocco fresco Però lo sentiamo in tedesco Stavolta Bello in tedesco In tailandese Al prossimo beat Ti metto il tailandese C'hai ragione C'hai ragione Prossima frase in beat Se tizio vuole Gliela metto in tailandese Non è un problema Qui diceva Shun fresh Shun fresh Shun fresh Shun fresh È incredibile Cocco fresco Dopo sì Italiano Va bene Va bene Dopo questo beat Eh beh certo Ma vuoi questo In italiano Te lo rimetto in italiano Non è un problema Cavola Sempre il tuo beat Cocco bello Cocco fresco Cocco Bello cocco fresco Cocco Bello cocco fresco Cocco No 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 Fì Ok Cirundici Bello Bello Ciruzzo Mitico Ciruzzo Che no Non posso Non posso morire Ok No Non posso Ecco Guarda che bello Va che Ha bruciato vivo Ha bruciato vivo Ha bruciato vivo Ha bruciato vivo Poverino Sentiamo Ah beh Questo è ovvio Che va in italiano Questo è ovvio Che va in italiano Giustamente Non posso mica mettere In tailandese Questa C'è ragione Che te Ehm Ehm Commovente Ehm Commovente Sì Ah 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 max Un ciao max Grandissimo Shotoutino Grazie tizio Ve lo rimetto Ve lo rimetto Timino eh Che ha impazzito il bot Ciruzzo Sentite Grazie Max Grazie Max Bino scotto che sclera Bino scotto che sclera Quando sente paragonare Paolo Meneguzzi e Jim Morrison E c'ha ragione E' impossibile sta cosa Davvero ma Ok attenzione Ci possiamo fare No 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 Sto attento Potentissimo vai Dai Oh oh Caduto di nuovo Grazie I bit Ciruzzo Ma questa la mettiamo Questa la possiamo mettere in italiano o in terlandese? Come la volete Italiano Vabbè In tedesco In tedesco Chi è No Non ce la fa Ah su Rocket Grande Grande Ziruzzo Ziruzzo Nazionale Ciao grazie Ciao grazie Max Ziruzzo Ma chi è Ziruzzo Ziruzzo Ma chi è Ziruzzo 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 È incredibile Ma voglio sentirlo Com'è in tailandese C'ho già paura Perché Prende il tailandese È una roba Ecco qua Sentiamo Cos'è sta roba Questa roba Ziruzzo, ziruzzo Bello, bello Checkpoint Ma che succede? Va su, va su Vabbè Che ruota giù Eh, lo so Ok non so è tedesco eh oh no ciao ciao Fabrizione sciolto autone per il mitico Fabrizione che è un membro eccezionale veramente dei tipi della notte che stamattina ha flexato la sua squadra poderosa con la maglia bianconera ha trionfato come la Juventus vera con più di 30 scudetti quante maledizioni per la gemma blu cosa devo fare per la gemma blu cosa devo fare per la gemma blu dov'è sta gemma blu sai che accetto suggerimenti oh la gemma verde ed era facile da prendere la gemma verde i beat i beat tizio grazie tizio fammi un beat incredibile beat incredibile beat nooo senza prendere nessuna cassa ma anche il checkpoint anche il checkpoint quindi ma io qua muoio in sto livello sto morendo in questo livello sto morendo in questo livello non è proprio facile diciamo quindi questa è una gemma colorata più difficile del solito mammaggia che roba i beat grazie c'è ciruzzo in che lingua in che lingua ciruzzo in che lingua ciruzzo italiano italiano ciruzzo italy ok vediamo oggi stiamo provando perchè oggi sono senza webcam per le solite ragioni che sono da playstation senza webcam ma mi sono addestrato abbastanza a sopravvivere oggi quindi va bene l'unico c'è che puoi sfruttare è quello della zona bonus è già è vero è vero basta non prendere casse e si è è quello un checkpoint però mi sa che sarà già nelle fasi avanzate eh perchè sono morto ah si ovvio perchè dai che sto prendendo tutte le casse adesso a burbele bà ok no ma non ce la fa ci riprovo ho capito comunque il motivo ho capito il motivo non è difficile non è per niente difficile sembra ma non lo è affatto ah che sete sto bevendo il tè bella 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 e qui e qui evito mamma mia marcello ok no 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 mi sguscia mi sguscia via no cos'è sta roba ma sapete che è difficile sto pezzo il tè la pesca esatto il tè la pesca l'unica salvezza contro il caldo io non dovrei bere roba zuccherata però veramente cioè non perchè ho delle malattie perchè fa ingrassare non per altro penso che ho impiegato ok andata andata ok attenzione ah senti Fabrizio per te senti qua il mitico Pino Scotto grande conoscitore di rock e metal che si trova a sentirsi dire che Paolo Meneguzzi è i livelli di Jim Morrison e ci sclera male per sta cosa non riesco ad andare su ho un serio problema qua forse c'è un modo pezzo di storia si si è bella è bella questa parte ma non so se riesco io vorrei farla sta pezzo bonus visto che ormai ho preso tutte le casse tanto vale che pigliamo anche quelle ok e qui non capisco come fare no ma dai mi sguscia via cosa c'ha sotto i piedi beh mi arrendo per ora la devo poi fare peccato perché veramente sembrava andar bene quindi in pratica uno deve anche farsi queste parti qua senza mai morire ma cavolo è tosta è tosta ok andiamo eeeh ma mi sguscia via sembra veramente che ci abbia il sapone sotto i piedi è incredibile incredibile si rompe pure quello mannaggia si ma non pensavo che fosse più difficile dell'uno sono senza parole avevano detto ma non ci ho creduto fino a che non avevo controller in mano io sono scettico ma chi dice che è più difficile dell'uno non si ricorda l'uno e invece aveva ragione daaa ma dai sti pezzi è impossibile morire tutte ste volte dai dai ci riprovo ritenta e sarai fortunato ecco aaa cosa vuole cosa vuole quello da me cosa vuole quello da me mi ha dato una zampata ok mamma non so quante volte siete morti voi ma stanno salendo a livelli estremi oh bene ci sarà una gemma nascosta no no c'è niente sono davvero venuto qua per niente cioè gemma nascosta benissimo non sto guardando nulla ho intuito io che poteva esserci qua eh ci sono delle casse però che bello non vederle ma sai che ci sono ok giocato così in coppia divertente aaa si può dare il cambio in coppia che figo ma quindi posso giocare con Clay in share play immagino di si mamma mia è da provare è da provare bene bene anzi dovevo prima prendere qua cos'è sto aaa ma è fantastico no no qua è facile qua è facile facile casse casse no 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 sembrava facile veramente ci sono cascato ma è facilissimo ma cosa è più facile da notare che mantengo la mia calma nonostante tutto cioè eeeh no 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 ok perfetto si può andare no non si può andare e qui qui sopra aaa si è scivolato aspetta salta salta no non salta perché non salta ma cos'è il diavolo della tasmania ma cavolo meno quello aveva un gameplay migliore quel gioco un gameplay oddio non so non so dirvi la verità se era un gameplay migliore o no taz però questa si rompe so toccata e fuga quindi siamo quasi arrivati oh mamma mia non ce la faccio più ok pensate veramente a fare sto livello senza casse la salsa è un altro che è soltanto ah ho capito mi spiace purtroppo ho già saltato quella bonus come vedi ho già saltato quelle bonus perché non sapevo come farla mi ha preso dai che sta andando forza let's go let's go let's go allora nooo abbiamo fregato la fisica del gioco eh vedi vedi ma che strategia non c'è non c'è non c'è drago che tenga mannaggia mannaggia abbiamo preso finita finita vabbè è buono eh tranne quel livello bonus e quella cassa che ho dimenticato mica male mica male io credo di voler provare la cosa più folle provare a fare il livello senza mai morire ma lo faccio per il nastro flashback a dirvi la verità lo so che è una mazzata però io il nastro flashback lo voglio il nastro flashback lo voglio è una follia eh è una follia però ci proviamo livello l'ho fatto dai quindi ci sta me lo faccio me lo faccio da solo me lo faccio da solo punto esclamativo level up punto level up che è probabilmente quale del 14 ok ah ah senza prendere casse eh beh partiamo subito in netta difficoltà da zitto brio da devo già rifarlo dall'inizio ma quindi passa e gioca come funziona casco come funziona passa e gioca passi il controller tipo stai sclerando e passi il controller alla compagna funziona così passa e gioca certo che non è male come idea allora cavolo pensai di arrivare fino là nooo è già preso vabbè niente il no casse è già diventato impossibile vediamo il no morti il no casse è già diventato impossibile sto pezzo qua mi ricorda dal livello di pura quello di crash bandico 3 ma che c'erano i draghi eh non oh sto pezzo non mi piace per niente ok mamma mia mamma mia è qua il nastro flashback è qua non è qua aspetto io aspetto aspetto io aspetto qua boom andiamo veloce grazie grazie qui no qui no sto pezzo è difficile sto pezzo se s'appendesse dai signor crash s'appenda s'appenda eccolo qua incredibile uno dos tre no questa si rompe questa si rompe ce l'ho fatta ce l'ho fatta fino a qua ok mamma mia Marcello che fatica chi è Marcello eh Marcello ve lo spiego un'altra volta chi è Marcello ok la va sta lì sta lì sta lì sta lì sta lì ok mi tocca prenderlo mi tocca prenderlo tanto non siamo morti uh ma devo fare sto salto qua per prendermi guardala là guardala là il nastro flashback devo superare questo pezzo terribile ok ok questo pezzo è il male assoluto ok c'è saltare queste ora che posso dopo una partitina rocket forse forse o rocket o fall guys uno dei due comunque non ho ancora deciso vediamo chi c'è per rocket e chi c'è per fall guys boom fatto ok abbiamo un nastro flashback finalmente il nastro flashback è nostro il problema è il checkpoint no ma devo non rifarmi questo uh guardalo qua è volato giù di nuovo ahhh ma me l'ha dato il nastro vero me l'ha dato il nastro ce l'ho il nastro vero si si ce l'ho il nastro deve avermi dato il nastro dai io fino lì ci sono arrivato poi puoi anche morire dopo ho il nastro ho il nastro vuol dire che non sono mai morto prima posso anche e dai tre morti boing ok poi vi salto tanto non servite nulla ok andiamo qua no lì no lì no ok perfetto questo pezzo faccio fatica non so perché non dovrebbe essere così complicato cioè non mi sembra un pezzo da dire oh mio dio che fatica invece mi sguscia via ok bene molto bello tutto molto bello ok bene bene oh il checkpoint finalmente ce l'ho e te vai via ok andiamo su questo è utile e ne è caduto giù sicuramente comunque non farò tutto il giorno crash confermo che sarà una live multi game oggi è sparita è sparita è sparita quella maschera che ci dava la possibilità dai dovevo solo finire di nuovo il livello ho il nastro flashback stavolta mi sa che per collezionarlo però devo finire il livello perciò comunque me lo faccio ancora una volta lo so che non è non è facile e non è simpatico se va fatto va fatto magari dovrei anche allenarmi a evitare le casse se posso eeeh mi spinge giù quello pensate ad arrivare fino a qua vabbè a parte che puoi passare dal bonus però il pezzo più difficile l'avranno fatto qua apposta e dai ha tirato giù di nuovo dai 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 che va bene grazie programmazione programmazione è sbagliata o forse è giusta perché anche domani forse sarà crash domani sarò però alle 11 del mattino domani 11 del mattino domani saremo mattutini evitiamo questo ho saltato la cosca qua perfetto conca conca prendere la colorata qua sarà veramente difficile perfetto cioè se uno arriva qua e poi muore alla fine del livello c'è da disperarsi ma non stai per fare il livello senza mai prendere casse vabbè però morire è permesso soltanto che ti fa ripartire dall'inizio morire è permesso ok non va non va male eccola la cassa l'ha vista adesso la cassa che prima non avevo preso quella che diceva casco e quella cassa lì ma carinissima quella cassa grazie ragazzi grazie dell'aiuto mi state dando questa è la parte finale nooo mi ha fatto il giro attorno non ci credo l'avete visto che roba incredibile senza parole veramente senza parole proviamo dai non bisogna mai avere paura di fallire perché poi dopo il fallimento arriva sempre la vittoria si spera nooo non l'ha presa dai forza crash ce la puoi fare ce la puoi fare ah ho perso la maschera così bong bong ecco qua e fin qui nessun problema qua neanche ok qui si nooo ma come mi è morto qua ma come ha fatto morire ma non è caduto non si capisce come sia morto crash qui si è assurdo sto pezzo è assurdo sto pezzo è fortuna adesso avremo un bel nastro flashback da provare ma bor who can eh è difficile è difficile ragazzi devo farlo fuori questo perché mi ingombra crash 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 lo chiami crash lo chiami crash lo chiami crash quindi tu Stefano va bene va bene penso che sia giusto crash cioè a livello internazionale crash sono d'accordo e dai con sta roba ma che cos'è sto leone è più difficile di fare Monte Carlo senza incidenti in Formula 1 forse stessa difficoltà dai 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 che ci siamo dai che ci siamo oh no porco cane ah che scleri che scleri persona calma vediamo quanto la mantengo tutto per un nastro flashback e non si aggrappa su spiegatemi perché perché è fatto da Activision si era fatto da Naughty Dog queste cose non succedevano veramente oh benissimo avevo bisogno di questo spazio aspetta aspetta l'ho sbagliata saltiamo che qui c'è il dragone anche qua prima che arriva il drago qui devo saltare subito perfetto fermi fermi ma no lì che prima mi ha dato un bug ed è morto mettiamo a voi se deve morire per una cosa del genere ok fatta è fatta è fatta checkpoint non ho più paura di niente perché c'è il checkpoint bene bene salita qua ma porco rabbioso sì sì porco cane esatto porco cane rabbioso va bene si può dire si può dire quella non offende nessuno ok si può dire Stefano si può dire sì sì assolutamente sì e quanto amo anche i cani rabbiosi poveracci non è colpa loro ma eh vabbè è andata dai dura e cruda ma abbiamo un nastro flashback quindi quindi ci facciamo il livello nuovo il livello nuovo del flashback proprio bello wow forza 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 dov'è il flashback non è qua vero sbilanciamento no non è qua è qua nastro flashback proviamolo dai tanto sapete che a me piacciono questi livelli mi piacciono tantissimo andiamo un po' ne facciamo un altro what what devo andare piano se io distruggo questa no non posso qua ok queste come le distruggo così spero che non siano nitro tnt tnt non ce n'è un'altra ma mi ha ammazzato ma mi ha ammazzato ok ma mia che belle le musiche le musiche dei vecchi giochi le musiche dei vecchi crash io vado qua mi sento più sicuro quindi qui conta solo il numero di casse prese ok piano piano delicato ok oh cavolo non so se riesco a far questo ma come si fa a far quel pezzo ma come si fa a far quel pezzo siamo a livelli professionistici le musiche sono belle le musiche sono belle i livelli egiziani ma vai che ce la facciamo no no perché non salta perché non salta i nastri mi hanno bisogno di prenderli per aver poi ottenuto un altro livello di esatto esatto ma io non riesco a capire come entrare in quel buco mi sembra che mi sfuga qualcosa ok è scappato infatti è un livello da incubo non li devi saltare ma devi fare tutta una scivolata quindi se sto in scivolata ce la fa strano strano mi sembrava che nei vecchi crash non ci fosse no no ma por devo farlo dopo devo farlo dopo hai ragione hai ragione hai ragione ma basta è vero sono livelli da incubo in senso buono o non buono però io sto qua non vado da nessuna parte ok perfetto bam spero non ci siano altri scivolata del genere a sto livello allora faccio piano ci vado eh ce l'ha fatta grazie casco oh no ce n'è un altro c'è un altro terribile che roba no non credo di poterla fare come volevo io ma oh l'ha attivata devo scappare se faccio così esplodo ma sì che esplodo ti pareva che non esplodevo vabbè mi fai partire da qua perché non lo tocca cane rabbioso eh lo so tosta 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 attenzione il peggio deve ancora rivenire in sto livello ma io voglio prendere tutte le casse perché non me la tocca ma non me la tocca ma tocca me la stacasse vabbè tanto facendo saltarle nitro non c'è un problema ah 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 c'è qualcosa che manca ovviamente ovviamente la nitro qua mi sembra una buona idea tanto facendo saltarle nitro salteranno anche quelle dai nessun problema no eccolo qua incredibile è mo qua ce la preoccupare che cosa ho fatto l'avevo finito il livello l'avevo finito il livello era quasi fatta non ci credo veramente non ci credo livello quasi fatto al cento per cento bene ah ma io dovrei passare qui sopra oh cavolo devo tornare su dopo ma no è un'agonia ok facciamola tele professionisti che fanno tutto al primo tentativo guarda qua pom pom ok non posso farla così vero? no non posso no non posso ok abbiamo dimostrato che non posso categoricamente impossibile quindi qua prima non dovevo prendere la TNT ma la prendo ah beh basta scusatemi eh allora bello questo bello bello ok andiamo giù accucciati ok è andata mamma mia che bello questo mi piace tantissimo no scappo qua no cosa è successo è andata bene è andata bene attenzione se riesco a morire qua guarda veramente oh bene è andata è andata 73 su 73 segnatemela perfetta oh che bello flashback completato massimo leggi il gruppo please va bene vado a vedere vado a vedere sì no lunedì sì 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 ma no non ha perché c'è lunedì non metteci lunedì lunedì è la prossima settimana che settimana scusa ma la settimana termina il 24 metti ma quali sono i tuoi o i tipi della notte non ho capito qual è perché non ha senso perché ci metti solo quelli ah tizio il tuo canale ma glielo te lo scrivi è miei ma te hai iniziato che puoi ma come mi devi mica chiedere il permesso certamente certamente assolutamente sì c'è sul tuo canale ah sul tuo canale ma sul tuo canale non devi mica chiedere il permesso a nessuno tizio ci mancherebbe altro puoi farle quando vuoi non combaciano tranquillo tranquillo vanno benissimo vanno benissimo tutto perfetto però fa strano perché non si mette mai un giorno della settimana seguente comunque cioè far proprio far proprio strano perché è un'altra settimana noi in Italia iniziamo la settimana lunedì in America all'inizio della domenica la settimana ma no che grazie ci mancherebbe altro anzi grazie a te veramente figurati ok e vediamo un po' com'è questo livello comunque è andata bene 100% il livello del nastro flashback max mi sai rispondere a questa rogna come mai quando rocket a schermo intero non mi mostra la freccia se si mette in fine non te lo so dire perché su playstation sta cosa non succede sta cosa non succede su playstation ciao coin grandissima delle leggende coin sto gioco è adorabile è rilassante ho scoperto che è la nuova meditazione zen è giocare a crash 4 mamma mia ti fa vedere il divino veramente è calmissima è calmissima è rilassante ma sai quanto è rilassante sto scherzando eh allora ciao coin da domani mattina mi vedrete con la cam di nuovo cos'è sta roba eh eh vabbè ci sta la morte vito vito ho visto ho visto è ho vito ho vito vito ho visto che anche il tuo allenatore in football manager si chiama vito anche lui l'è chiamato col tuo nome vito vito grandissima ah la corsa sul muro presente in tanti giochi vortice no i beat sentiamo sentiamo tecnicamente sarebbe vietato fare beat con link ma proprio in generale però facciamo un'eccezione non per quello lo so ma non per quello proprio sarebbe proprio cioè proprio tipo una regola tipo se uno mette beat però in effetti è nostro perciò possiamo fare quello che ci pare ci piace è nostro ripeto è nostro se uno vuole pubblicizzarlo lo pubblicizzi pure che cavolo ci sono problemi come va coin la tua giornata io ho mal di testa eh lo dico subito come al solito hai volato nella co 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 eh lo so allora devo partire di nuovo dal primo livello dal primo punto del gioco bellissimo bellissimo sentiamo un po' eh coin è permesso anche a te tizio anche a te permesso sto ancora su football manager a organizzare il mercato mamma mia che vi raccomando canale fanta comunque beh ci credo che sei in mercato perché non ha scattato ho premuto x cavolo risposta please please crash please please I believe in you crash I believe in you faccio sentire una cosa incredibile per sentire una cosa incredibile ragazzi faccio sentire una roba che è veramente sconvolgente ve lo assicuro siete pronti a qualcosa di sconvolgente? un nuovo sound pino scotto nooo non me lo prendi scusate sono già cellulare si vede ok ti amolo eh grazie per il beat barra barra grande per canale canale incredibile che oggi ci ha fatto un ride quindi è da ringraziare ancora di più più del solito eh che salto non è perché non piglia il salto full goose e beh full goose e beh il full goose il famosissimo full goose non fall guys è full goose e beh aspetta eh ci metto io una cosa sentiamo un po' ma ci metto in serie di azze uguali a vca eh 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 beh ovviamente eh ovviamente sappiamo che il nostro lettore è un fan dei village people incredibile no non non tizio eh dico il traduttore la voce la voce parlante è un fan dei village people incredibile oh bene siamo tornati qua salta oh l'ha preso l'ha preso l'ha preso potremmo risolvere no va por ce l'abbiamo fatta attenzione al piano perché brio rompe ok messo a tessere brio no non posso metterla l'ultima no che bella dice di nuovo ma tizio tizio me la metti di nuovo facciamo una cosa tolgo il pezzettino col ne eh eh perché la legge così mi ha mangiato sì sì ma va avanti tutto il giorno così sembra che sta pregando per il bro per il bro sembrava sembrava uff via allora questo qua no ah ma si è bruciato incredibile boom spiaccicato ok grazie per il beat grazie oh che bella sta scena mi piace sto posto mi piace sto posto sentiamolo eh oh vediamo cosa è scritto vediamo un po' non voglio leggerlo tanto ho visto solo che non c'è il ne alza le mani 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 sì le mani in alto alza le mani 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 Quindi il suo talento era bravissimo Quando non giocava era veramente bravo Un grande talento Senza palla al piede E' la sua strategia Non giochi, non prendi brutti voti Un po' come faccio io oggi Ma perché c'è sta musica? Sembra un corvo che ha mal di stomaco Sta musica E' addirittura Vediamo un po' cosa c'è ora Sentiamo E' scaduta la sub E' che pensi Che abbiamo donatore Però devo scriverlo in tedesco Così può arrivare E' non è facile Donatore anonimo Chissà dov'è Chissà dov'è donatore anonimo Chissà dov'è Eccolo qua Un donatore anonimo potrebbe essere Ma non credo Non credo che ci sia Non credo proprio Chi lo sa Chi lo sa Sarà San Pier d'arena No, no Lui non frequenta certi posti Donatore anonimo E' un uomo misterioso Perciò chi lo sa Chi lo sa No, sono caduto Perché è Giacleone Max? No, no Donatore anonimo Non è Giacleone Max Cos'è sta storia? Devo metterci la musica quindi No, cos'è? Ma perché? Ce l'avevo un suono Boh Sta cosa è strana Sta cosa è strana Cos'è sta Aspetta Comandi Fatemi vedere Sound Sound special Fatemi vedere Scusatemi Deve partire Deve partire tutto Un secondo Incredibile Donatore anonimo Che ti ha regalato la sub Incredibile Non so perché compare Giacleone Max Non c'è da nulla Giacleone Max Sto giocando Testimoni tutti Che sto giocando No, niente Non riesco a trovare Sound special Boh Che strano Sta cosa Non ha senso Comunque Beh misterio Oggi ci sono i misteri Eh, lo so Lo so Ma è sbagliato In realtà Il merito è Del donatore anonimo Che ha visto Il donatore anonimo Ringrazia lui Esploso Sì, sì C'è scritto Giacleone Max Beh, chissà che strano Mappo Esatto, esatto Esatto, esatto Bonk 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 E grazie Il donatore anonimo Per la sub regalata Non so perché non è scattato Dovrebbe metterci La musichetta La musichetta La musichetta La sub Altrimenti la vado a prendere io Grazie Il donatore anonimo Ringrazio in privato Va bene Metti la musica Eh, lo sto cercando Lo sto cercando Ce l'ho da qualche parte Datemi un secondo Scusatemi Video Ce l'ho, ce l'ho Adesso salta Musica Eccola qua Arriva, arriva Eccola Ecco qua Sentiamo Sì, sono tizio Hai inciso La spagna Nella roccia Come il luogo Sub Eh, grazie Ecco qua Ma hai detto che sei stato tu Ma hai detto che sei stato tu Funzionava Alla fine funziona tutto In un modo e nell'altro Ce la facciamo sempre Brucia, brucia, brucia Devo scappare Oh, hai volato giù Dai, per pochissimo E siamo a nove Sull'obiettivo Eh sì, eh Esatto Esatto, esatto Un mese di Netflix In meno Per signor donatore anonimo Eh eh Però ne valeva la pena Darla a tizio Ne valse la pena Ok Mi brucia, mi brucia Ok Ah no Il nastro flashback Pure qua La cosa più brutta Che potevi vedere Tanta fatica A prendere Sto nastro flashback Ma sapete che è veramente vicino Il nastro flashback Qui Ma questa si apre? No Ok Spero che non si sia frezzato Veramente Che sia così per scherzare Perché La live funziona Dai Ditemi che funziona Deve funzionare la live Oggi poi Massima qualità La massima qualità Oh I livelli che piacciono a me Questi sono i livelli che piacciono a me Ragazzi Cosa dire No Scappo 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 No Ok Sono vivo No Mamma Fambrodo Ok Perché non ce l'ha fatta Jack rimetti Certo che la rimetto Certo che la rimetto È la follia di Vivaldi Bella 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 Perché stavolta M'ha preso Aburbega Valiscissima Ti ringrazio Cone Grazie del feedback Ecco qua Sentiamo Vabbè qua E tanto che ce frega Basta che ce le distrugge Ok Fino a qui va tutto bene Ecco qua Popopopo Qual è No Ma perché Aburbega Un corno Aburbega Ecco qua Sto livello L'avevi fatto Dani L'avevi fatto Sto livello Ti è emozionato Scappa 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 Non è questa la parte difficile La parte difficile È superare le nitro Le nitro Ma perché Non va Scivolare e saltare lì Scivolare e saltare lì In che senso scivolare? Ci sono le nitro Io fin qui ce la faccio Il problema è che questo è nitro qua Guarda Scivolare Da lì scivolare Non penso Se scivolo da qua non fa niente Lì si è scivolata qua Ma no! Cosa ha fatto oggi tizio? Bittare come un folle Resettare il pc Risposta 1 più rifare b Gli dico resettare col pc Resettare il pc Ci provo ancora una volta Non funziona Come non funziona? No non funziona Ci ho provato Peccato perché sembrava bello Certe volte non le capisco neanch'io Le strategie Sembra Cioè vedi se fai così Però il problema è che tocca Il cappello E quindi Vabbè ci provo dopo dai E devo proprio farlo D'attaccato Devo proprio farlo D'attaccato Una cosa assurda Proviamoci Ho capito Ho capito Facciamo la minimalista Come fanno Come fanno Gli speedrunner Che poi non lo farebbero mai Sto pezzo Gli speedrunner Ma c'è una minimalista Tutto distrutto Solo quelle tre che servono Una Due Tre No non posso andare Stavo cercando di barare Ah no Eh l'ultima Rifare OBS Ma OBS Vabbè al momento Lasciamo perdere Lo so che fa sclerare Ma se non riesco a finirlo Tanto Aspetta Il 100% sto gioco È una roba Allucinante E conosco Chi ce l'ha fatta A platinarlo Sono felicissimo Perché sono dei bravi Grandissimi giocatori Massimo rispetto Davvero Massimo Massimo rispetto Per chi ha Platinato il gioco Perciò Veramente Dico solo che io purtroppo Non credo Di poterci affare Almeno un momento Poi magari A forza di giocare Miglioro Chi lo sa Ma mi ha preso di nuovo Ciao Lea Ciao Lea Ok Stiamo avanti Sto pezzo Sto pezzo mi piace E questo qui Un po' meno Colpito Olè No Ho già fatto L'errore Qua Ah Visto che roba Ma no Non può Farsela qua Ma sono io Che non uso Le abilità Ho questo Scommetto che qua Se facevo livello bonus Avevo un bonus più Mi sono complicato la vita No Non è una bella idea Eh si Farmelo Con le nitro distrutte È stato molto più semplice Davvero Facendo livello bonus Guarda qua C'è qualcosa qui sopra Non riesco ad arrivarci Va Va Fanbrodo Allora Capito Capito A Burbe Ha un corno Non mi servi Tu Mi serve Evitare Vabbè Forse mi serve Forse mi serve Ma no Mi ho buttato di lì Tutto bene Eccolo Ah C'è la GNT Ma porca Ragazzi Tostissima Via C'è una mosca Che mi sta pediando il tè Una mosca Vuole prendermi il mio tè Mio 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 L'esperimento L'esperimento Ha una mano sola E fallito Incredibile Vero Chi l'avrebbe mai detto Proviamoci Perca? Ma che roba Ma Io ho anche una mosca che mi sta Aghiacciando C'ho una mosca che mi sta attaccata E mi sta rompendo le scatole È incredibile Una mosca che non vuole farmi giocare È incredibile Io non ammazzo mosche Oh è andata No non è andata però È andata ora Che goduria Ok Ah spavento Grande Cla Cla Punto esclamativo Pino Scotto Pino Scotto Cla Prova Pino Scotto Prova il comando Prova il comando Pino Scotto Cla Ciao Cla Che bel gioco Rilassante Ok bellissimo Bellissimo È fantastico ovviamente Grazie Grazie per resistere Crash Eh Fra un po' Ah Bruciato Bruciato Di nuovo C'è possiamo fare Puff Puff Bellissimo Piaciuta Cla Ho scelto quella alla fine Ho scelto quella lì da 4 secondi Paolo No la temperatura del tuo cellulare è troppo alta È capo il cellulare Il cocco Metti Sì ho preparato il cocco L'ho preparato Adesso lo metto Ciao Manu Grande Manu Grande Manu Quando finirà il beat Ti saluto anch'io Manu Un attimo solo Grazie per lo shot out Dani Dicevo Ancora Oh è finito È finito Ok Dicevo Grande Manu Quando ci hai detto C'è sempre il cardio suspense Sì sì è vero È vero è vero Allora Andiamo qua Allora Ci possiamo fare Attenzione Attenzione Sivuple Ok È finita No non è finita Sembrava finita È lunghissimo sto livello Sta andando Sempre più difficile Sempre più interessante Manu Ma noi scherziamo Si spera Si spera Che tizio scherza Si spera Si spera Sempre Si spera Si spera Spero per la mia sanità mentale Che tizio scherza Grazie A parte a fare leggere Max ti sta piacendo Le sta piacendo Crash qua Tantissimo Ma tantissimo È un bel livello di sfida È un bel livello di sfida Ma hanno detto Come prendere la gemma blu Sarà veramente tosta Sarà veramente tosta Eccolo È andato lento Un bello cocco fresco 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 Perché Un bello cocco fresco 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 Ah, ho capito tutto, non ce la faccio più, non ce la faccio più, ho capito, ho capito, devo farlo quando, devo andare di là, ho capito, ho capito, ho capito. E' avvincente, guardate, guardate qua, eccolo qua, grande, grande, è vero, è vero, è vero, lo ammetto, lo ammetto, ce la possiamo fare, manca poco, ma questa era facile, no, no, questa non era facile, per niente, ma chi è questa, chi è questa, chi leva il follo e finisce, no, la prima parola, la principessa Sissi, dirò principessa Sissi, easy sondaggio, sondaggio fatto da Kla, penso, penso da Kla, ebbè, si vedeva, dai, principessa Sissi, preso pallonate da Tony, Luca Tony, Maccheroni, lasciato al sole per sempre, bannato ed eliminato nelle mani di un certo signor pesce, non c'è il nome, quindi potrebbe essere un amico di Topolino, potrebbe essere, chiaramente uno della cricca di Topolino, ma forse no, o forse no, ed è uno dei peggiori individui che mai è esistito al mondo, può essere, oh, grazie per i bit, sentiamo, no, vabbè, l'ultima, l'ultima non la leggo, l'ultima la leggo, ok, mettiamo così, non so se si può leggere, eh, faccio una modifica, faccio una modifica, perché c'è una cosa che non posso leggere ad altra voce, ecco fatto, perfetto, perfetto, facciamo così, ciao Stefano, principessa Sissina, 50% 1, preso a pallonate da Tony, 0% 0, lasciato al sole, X, sempre 0% 0, bannato ed eliminato, 50% 1, nelle mani di A, chi? Nelle mani, ah, beh, ho capito, no, non voglio saperlo chi, lo so chi è, lo so chi è, è terribile, credo, terribile, però è bellissimo il sondaggio, a me fa, sarò strano io, a me fanno ridere questi sondaggi, ragazzi, che vi posso dire, ma non sta mai zitto Brio, sempre di, va, 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 vai, 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 vai da qua, eh, saltiamo qui, mi sta bruciando, Alexa, come va? Ma sarà vera sta storia o l'hanno un po' romanzata? non sta mai zitta, eh, lo so, è la fine che farei chi leva, oh, English, please, eh, we got the reward for the English, please, I will speak only in English for two minutes, so for the next two minutes, I will only speak in the modern language of English, no, no, oh, oh, no, sorry, sorry, oh, ok, let's see what's going to happen here, ah, gra, thank you for the beat, thank you, duolingo top up, eh, beh, duolingo top up, off, 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 off the world, off the world, why, why this is happening to me, why, I can't believe it, salta, let's jump, like the vanilla, name generator, Alexa, Claudio, Vito, Google, Max, Manuela, Felice, Daniel, ecco qua, because we are speaking in English accent, I want to try it, I want to try it, just here, just give me a second, please, Alexa, Claudio, Vito, Google, Max, Manuela, Felice, Daniela, prossima live di Jack è mettere maschere speciali lattex, no, no, mai, corso di padano, ma perché esiste, non so neanche milanese, io, ecco qua, ehi, ciao, grande, grande, dov'è Manuela, ciao Manuela, scusami, non ti avevo visto, ciao Manuela, ma dov'è Manuela, non l'avevi, non mi compare, non mi compare, non mi compare, c'è Vampeta, Vampeta, ah, ok, ok, sì, ma tizio, è Vampeta, è Vampeta, è Vampeta, lo so che ti sta poco simpatico, Vampeta, però, allora, fatemi pensare una cosa, prossima live di Jack, mettere maschere, corso di padano, ciao, ehi, le gare di 100 ore a tennis, potrebbe essere, a bordo gli hit, dissing ai B con Kla, ma è ovvio, Kla, ma è ovvio, l'abbiamo già fatta, e la faremo di nuovo, l'abbiamo già fatta, e la faremo di nuovo, un secondo, eh, esatto, è Vampeta, è Vampeta, però, visto che non si può, ah, mi sta antipatico Google, eh, lo so che Google ti sta antipatico, lo so, è una cosa ben nota, prossima live di Jack, eh, sì, sì, questa qui, le dissing, oggi è stata una cosa molto apprezzata, fra l'altro, molto apprezzata, e è tornato Crash, è tornato il mitico Crash, il marsupiale malvagissimo, che, ecco qua, attenzione, ci riprovo, eh, strano che non ho visto il difensore di un certo soggetto, non so, non so, non ho capito a chi ti riferisci, Kla, scusami, ma ci sono i... bella idea, no, 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 va come brucia, ok, è finito, non è finito il livello, un corn è finito, io ci credevo di aver finito il livello, eh, ero tanto contento, stavo già festeggiando, uh, altra maschera, ci salverà la vita, Max, che ne pensi la prossima volta Rocket, ho spento il compito perché è stracaldissimo, eh, ci sto pensando, ci sto pensando, non so neanch'io cosa faccio domani, non so neanch'io, ecco qua, attenzione, andiamo, ok, no, mi ha preso, attenzione, siamo arrivati vivi, siamo arrivati vivi, attenzione, è il finale, è il finale, è andata benissimo, è andata benissimo, rispondi a tutto, Max, anche dicevo Stefano, è strano che non ho visto il gioco, tanto, se lo ignoravamo, probabilmente è per quello che non è passato, probabilmente è per quel motivo lì, perché cavolo, vedi che parli, sapeva già come sarebbe finita, in privato, vediamo un po', allora, ecco qua, sì, sì, ecco fatto, ecco fatto, ok, risposto, ce n'era una sola, ok, mi sa che siamo dal boss, siamo dal boss, allora dopo possiamo cambiare gioco, e mettere full guy, Klaus, scoperto, guarda, fa vedere, due giocatori, come vecchi tempi, campagna insieme, passandosi il controller ogni morte, Klaus, si può fare, crash anche in share play, ma sai che figata, cosa farà Jack dopo, guarda il soffitto, corsa sotto il sole a 50 gradi, trucco e parrucco, eh, può essere, si fa il dissing da solo, no, ruota l'asse terrestre, che sono io, eh, può giocare a rocket, ho fatto una brava ai pin cord, cos'è pin cord, scusami, è un gioco, lo fanno poi stasera, che cosa, che cosa, stasera in duo, crash, stasera, eh, stasera, stasera, eh, dipende dall'orario, perché io, dipende dall'orario, dipende dall'orario, se è verso le 22.30 forse sì, ah, è un bot di disco, ah, io non me ne intendo di disco, purtroppo, arriva il boss, ok, aspetta mentre provo questo, aspetta mentre provo, ma mi lancia ancora questo, no, mi è bruciato, ok, attenzione, sì, ma si può fare, si può fare, si può provarlo, poi, per conto mio, in privato, con Klapper, privato, eh, parlo in privato, visto che comunque, ultimamente stiamo dando tanto lo share play, ok, mi sembra più facile dell'altra volta questa, mi sembra più facile sta boss fight, ma perché c'erano sempre contro, no, non è più facile, chi è questo, eh, ah, questo qui è, questo qui è nebrio, lo scienziato tutto svalvolato, per non dire la parola che si diceva una volta, tutto svalvolato, è lo scienziato, ma è fuori di valvole, ok, esatto, ma perché è cancellato, si poteva dire, si poteva dire, anche se bisogna stare attenti, perché pure sui personaggi fittizi mi hanno detto che bisogna stare attenti, ma proprio ho detto che bisogna stare attenti anche ai personaggi fittizi, mi hanno detto, perché bisogna stare molto prudenti, guarda, è incredibile, io, bello sto coso, bello, bello, è difficile, ma bello, si fa dissing da solo, Jack, ha vinto, sì, 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 mi no, perfetto, boom, la faccia no, come la faccia no, dovevo colpirlo, ecco qua, vai che ce la facciamo, dai, 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 bella, 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 uh, 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 ok, slide numero uno, slide numero due, non si sa mai, anche il personaggio del gioco c'è sempre un'offesa, esatto, esatto, il problema è che sono le regole, bisogna rispettarle, purtroppo, cioè senza purtroppo, diciamo, non si sa mai, esatto, dice Cohen, esatto, esatto, bisogna sempre essere prudenti, eh, traccia di tizio, sì, ma qua ci si abitua, eh, qua ci si abitua, eh, è che non ha checkpoint, eh, l'allarme, allarme, allarme, incredibile allarme, grazie Stefano per l'allarme, spaventoso, Stefano è spaventoso con l'allarme, provate punto esclamativo level up, level up, scritto, eh, 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 che è questa roba, uno, due, tre, l'abbiamo battuto, no, c'è ancora un pezzo, secondo me si arrabbiatissima, perché nessuno mi prende sul serio, perché sei arrogante, signor brio, ecco qua, cosa fa, cosa fa, ma come lo colpisco io, ahia, genera i vortici, sta cosa non va mica bene, ma cos'è, cos'è, ma va fa, ok, brodo, Luca, oh, cucù, e uno va giù, spero ci sia un checkpoint, ma non credo, no, mi ha bruciato, faresti il sound Alex, alerta Alex e dice purtroppo non trovo il sound, eh, bellissimo, cosa posso fare con l'aiuto di un network, investire persone, sarà in persone, magari, aprire un conto in Svizzera, piantagioni, fare là il buco nero sulla terra, io sono per l'ultima, un buco nero sulla terra, col network, wow, ti crea un vortice incredibile che assorbe tutto, ahia, eccolo, 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 sì, va bene, va bene, così, se c'è il salvataggio non mi lamento, veramente, è andato giù, vediamo adesso come sarà la seconda, senza, senza non puoi farlo, è super sondaggio, esatto, 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 aiuto, aiuto, avete visto, vero, che ho aumentato il numero di sound regular, che tutti voi potete sbloccare, normalmente, senza spendere nulla, perché mi piace dare contenuto, per chi vuole, è arrivato, no, di nuovo, e io volo, ah, ah, vola, vola, vola anche lui, no, 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 sta cosa è pericolosa, ahia, ci siamo, un, due, ancora? ciao, brio, è stata facile, è stata facile, buco nero sulla terra, incredibile, grazie al network del buco nero sulla terra, yeah, level up, sì, forse questo, forse questo, se te lo metto io, se te lo metto io, assomiglia molto alla boss fight di crash, eh sì, è quella dell'uno, hai ragione, forse era victory, forse era victory, forse, questo qua, questa qui è vero, Stefano, level up è nuova, level up è nuova, questa è victory, ecco qua, rigioca, grazie, grazie per il GG, modalità N, vertita, sbloccata, rigioca i livelli che è completato come piace a brio, invertiti, in questi livelli, a contrarre i primi frutti boom, poi ti fanno girare la testa, non ricordare di prendere le gemme, eh, cos'è, i livelli invertiti? prossimo ospite di Jack, perché ci sarà un ospite, Root Mysterio, beh, il rei misterio dei root, nooo, ho sbloccato la skin classica, ma io la voglio subito la skin classica, dov'è? dov'è la skin, dov'è la skin? Datemi la skin classica, eccola qua, oh, che bello, che bello, voglio provarlo, voglio provarlo indietro, allora, Root Mysterio, Ricky di Pianezza, sarebbe bello, Ciccio Gamer, no? Naila Rose, no? Una signorina? Sì, sì, mi piacerebbe intervistare, sì, sì, mi piacerebbe, nel frattempo sono in compagnia di una cagna, cane, o sempre sempre così, sì, sì, lo so, eh, vabbè, Paolo Meneguzzi, paragonato a Jim Morrison, eh, beh, lo proviamo? Lo proviamo? È invertita, dai, proviamo a invertita, che bello, quindi in pratica per il 100%, devi fare anche livelli invertiti, o è un bonus che non conta nulla, Alexa, qual è il femminile di cane? Ciao Manuela, adesso ti rispondo, capito? Non bisogna usarla, cane femmina, avete capito? Cane femmina, non si dice quella parola, quindi è ufficiale, ha detto che non si può dire, Alexa, ciao Manuela, non è successo niente al computer, è tutto surriscaldato, è tutto surriscaldato, ci sono 40 gradi, ci sono 40 gradi, assolutamente, ci sono 40 gradi, ecco qua, è pazzesco, è pazzesco, eh? Che stai dicendo? No, in inglese no. Eh, peggio di qui, sì sì, noi siamo in allerta, ma cos'è l'invertita? Ma cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è questa? Ma è una roba che potrebbe far star male il povero coin che soffre sti effetti visivi, porraccio, complicatissima. Grazie, grazie, sentiamo? Eh, ma c'è la parola bannale, mi ha detto che non si può dire quella parola lì, bisogna chiamarla cane femmina, lo sai che quel pazzo con il carroattrezzi ha fatto un'altra manovra d'arresto in via Ferreggiano? Che quartiera è via Ferreggiano? Che quartiera è? Che ne ha già sentito parlare da qua? Io posso, tu puoi, ok, mettiamolo. Cile 11, fa caldo io, mi butterei in piscina. Ciao Ele, dice Manuela, ciao Manuela comunque, grandissima, aspetta un attimino che vediamo se c'è lo shout out, è stato fatto, sì, grazie, grazie, c'è già. Allora, spero che la tua giornata stia andando bene, io ho saltato un po' di live in sto periodo per colpa di sto caldo e passerò la mattina domani, metti in thailandese, va bene, va bene, proviamo, proviamo, proviamo in thailandese, con piacere, con piacere. Allora, ecco qua. Ma perché si sente così basso il thailandese? Cavolo. È bassissimo. Comunque, questa modalità è divertente, ma mannaggia per gli occhi, è un colpaccio. Non mi lamento, eh, non mi sto lamentando, dico solo che è curiosa sta cosa, te lo spiega lui. Ah, me lo spiega lui, ma certo, certo, me lo spiega poi lui, perché me ne ha già parlato un sacco di volte di sta via ferreggiano. Me ne ha parlato un sacco di volte. Mi sembra non ne ha parlato molto bene, eh, mi sembra. Mamma mia che crrr, eh, lo so, lo so. Cavolo. Qui invece da me, oggi ho perso mezz'ora per un corriere, il corriere mi chiama e dice, ma io non so, io sono al cavalcavia, io ho detto, qua, cavalcavia, io ho detto, io pensavo, ma quale cavalcavia? Qui non c'è il cavalcavia, eh, ma sì, per la strada che viene da Novara, ha detto, ma io sono dall'altra parte della città. Eh, ma non esiste, non esiste la strada su Google. Eh, lo so che non esiste su Google, è colpa ne ho io. E sono mica il signor Google io, eh. Non so mica. Questa manida è tutta blu, lo so, lo so, è fastidiosa, è fastidiosa, sì, sì. È fastidiosissima, infatti. Non so neanche se riesco a farla, mi fa male gli occhi. è tutto, è veramente tutto invertito come colori. Poi vanno via i colori. Sembra la musica sottofondo, sembra Coca-Cola di Vasco Rossellino. Già, questo è penulta boiata del presidente? Sì. Sì, cosa combina il presidente del Villa? Manu, oggi va in diretta, chiede Stefano. Sondagione, Paolo Meneguzzi è come? Jim Morrison? Sì, sì. Come Lenin, come John Lennon, come Jimmy Hedder, come Jimmy Alessio. Come Jim Morrison? Sentiamo, glielo diciamo Pino Scott. No, oggi sicuramente no. Domani. Io farò la mattina, perché domani riesco almeno a farla la mattina, per fortuna. Sono contento, faccio 11-13. Cioè, lui vuole che vinci e che prendi solo Under-23. Ammazza. Non è una bella cosa, eh. Cioè, io non so, come può pretendere sta roba. Ma cambia squadra, coi. Grazie per il Subo Jack. Grazie, grazie. Paolo Meneguzzi, mamma mia. Ma ho visto che esiste ancora Meneguzzi, fa ancora roba, eh. Povero Jim Morrison, lo so, lo so, Ele. È una cosa che hanno detto a Rock TV. Ha detto, ma io non smetto più di ascoltare Jim Morrison, di ascoltare Paolo Meneguzzi e il nuovo Jim Morrison. Cosa ne pensi, Pino? E sto qua, è esploso. Cioè, uno che conosce almeno mille artisti e gruppi e si sente dire che Jim Morrison è paragonato a Meneguzzi, cavolo. Non ne poteva più. Poraccio, cavolo. Che modalità. Ma poi anche i colori sono inquietantissimi. Ho già perso qualcosa, eh. Non vedo... Ma non puoi vedere i nemici, non puoi vederli bene. In sta modalità. Bello. Vediamo se almeno la bonus non è invertita. Sto livello è una citazione a livelli Tarzan per PS1? Non credo, però. Hanno allungato l'offerta sabato? Eh? Sto livello sembra una citazione Tarzan? Non credo. I quattro gatti di Emanuele si faranno vivi nella diretta? Io oggi, arrivata la... Cosa c'era il corriere? Il corriere mi ha portato la fontanella per gatti. Poi vi farò la foto. Bella fontanella. Un po' difficile da montare. Peccato anche il filtro va cambiato continuamente, però... Però è buona, cavolo. Veramente è una roba fatta bene. Così i gatti respirano. Posso dire così... Sì, sì, sono d'accordo, Stefano. Assolutamente sì, puoi dirlo, cavolo. Sono d'accordo con te, anzi. Sono d'accordo con te. Non riesco a sopportare sta modalità. Io chiederei come si fa a fare un livello del genere. Non è un livello. L'intero gioco tu devi farti così per il 100%. L'intero gioco in modalità invertita. Non un livello. E prenditi tutte le gemme. Ti nuovo, ma stavolta in modalità invertita. È molto peggio di quello che pensate. Molto peggio. Per fortuna, dopo aver fatto questo, lo ignorerò per sempre. è tutto invertito anche di qua. Oh mamma, è tutto invertito anche di qua. Non è come prima il livello. Sì, grazie. Aspetta. Un secondo. Ok. Vediamo un po'. Ecco qua. Attenzione. Io non prendo tutte le casse. Voglio solo finire il livello, ovviamente. Concedetemi un po' di tregua. Ok. E poi non li farò mai più i livelli invertiti. Mannaggia. Che poi sono anche al contrario, fra l'altro. È da notare che... Ma quello è il meno... Quello non è un problema, secondo me. È il contrario. È questi colori che mi uccidono gli occhi. Questi colori qua. Olè. Finita, finita. Mi gira la testa, si chiama. Il corriere. Sì, è una modalità. Max, ma la sfera. E guarda i gatti. Ah, era la sfera magica. Scusa. Ele dice. hanno allungato l'offerta per il caldo fino a sanno. Noi è claro che esce anche con 40 gradi. E io... Io non so come... Io non riesco. Ele è terribile sta cosa. Poverello mio angolo. Eh sì. Io non so come fai. Perché io ho 40 gradi e non riesco a uscire. Ma sarà che io... Il corriere. Suona due volte. Rapina a casa. Sequestra moglie e suocere. Come dice la canzone. Lascia il pacco in giro. Non viene. Non viene. Il corriere dopo 30 minuti ha fatto la strada giusta. Ed ovviamente è colpa mia. Ovviamente è colpa mia. Perché deve essere colpa... Perché deve essere colpa di qualcuno? È colpa mia, ovviamente. Eh ma... Eh ma non puoi cambiare casa. No, non posso cambiare casa. Non posso, signor Google. Eh ma Google non lo scrive. Alexa, apri sfera magica. I quattro gatti di Manuela del Drago si faranno vivi nella diretta di domani? Li ha usati sopra... Niente, non mi rispondo. Ci riprovo. No, eh... Tizio l'ha usata prima. L'ha usata prima. Il problema è che non avevo letto prima la frase. Perché stavo facendo il livello. L'ha usati. Ti confermo che li ha usati, Dani. Allora. Alexa apri sfera magica. I quattro gatti di Manuela si faranno vivi nella diretta di domani? Ciao Andre! Ciao Andre! Com'è? Contaci! Ha detto contaci. Oh, cos'è? Pantano delle zanzare. Qualche giorno fa. Come qualche giorno fa? Ho fatto un trofeone. Ho fatto... Mi gira la testa. Ho finito un livello invertito. Mamma mia se sono difficili i livelli invertiti. Tu Andre li hai fatti tutti i livelli invertiti? Col 100%? Eh sì, sì. Ho le cuffie nuove. Ho le cuffie pro gaming. Sono cuffie con una maggiore qualità. Assolutamente. Sono cuffie nuove. Sto sudando con queste. Poi domani invece torno dalle 11 alle 13. 11.13 lo scrivo anche qua. Non so anche se ho il cellulare. 11. che non ho il portatile. 11.13. Domani. Ok. Ci sarò anche domani, eh. Veramente. No! Perché c'ho il simbolino del... No! Non mi piace sta roba. Non volevo il simbolo. Non lo volevo il simbolo del regalo. È un errore. È un bug. È un bug. Io non ho regalato niente. Assolutamente. Bello sto livello. Bello, 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 bello. Bello come mondo. Wow. Questo sì che mi rilassa. Ma cos'è Romeo e Giulietta? Cavolo, come stai Andre? Mattina non ci sono. Eh, ma io l'unico orario che posso Andre lo sai che per me è una follia riuscire a... riuscire a... a fare le cose di... di pomeriggio. Già oggi. Già oggi sono veramente... praticamente KO. Però lo faccio lo stesso perché non potevo fare altrimenti. Ma domani invece faccio così. E poi si vedrà. Settimana prossima si vedrà. Vediamo. Non sono sicuro nemmeno io. Ripeto, è una cosa provvisoria, eh. Ma che belli! C'hanno la tromba. Io sì, non fa neanche come fai. Non riesco a parlare. Eh, infatti, cosa non farebbe mai Kla? Decante le lodi dei big. Donare soldi alla gente. Tifare il Milan. No! Tifare il Milan lo farebbe sempre. Decante le lodi dei big. Prendere il posto di Draghi. Abitare in Nigeria. Prendere il posto di Draghi. Lui non vorrebbe mai perché... non vorrebbe mai avere il potere Kla. Non vorrebbe mai avere il potere, sicuramente. Mentre Milan, vabbè, ma Milan mi hai detto che lo tifi. Mi hai detto che... da domani lo tifi. Non oggi, eh. Cioè, non è un problema. Leggi su. Leggi su. Grazie. Domani live. Dalle 11 alle 13. Leggi su. Ho saltato qualcosa? Io non so, anche. Leggi su se puoi. Certo, certo. Di sicuro devi settarle. Io sto... Cuffia, guarda. Le sento craccare sull'acuto. Eh, guarda. Ti dico subito. Ho un livello alto del microfono. Ho un livello molto alto. Avevo il microfono molto alto. Aspetta, aspetta. So io il motivo. So io il motivo. Ecco. Così va bene, vero? Erano molto alte. Ho cambiato, Andre. Ho cambiato. Ho messo l'audio normale. Ho abbassato il volume. Probabilmente perché ho il volume... ho il microfono troppo attaccato. Mi sente meno, ma molto meglio. Meno male. Ma non so perché ha fatto sto scherzo. S'arrabbiano i cubetti. Ma questi livelli sono bellissimi a livello creativo. Sono belli. Ma chi ha avuto st'idea? Ma è bellissimo sto livello. Senti meno, ma molto meglio. Ma sto livello è proprio bello. Finalmente vedo un livello veramente bello e innovativo. Cavolo. Quasi ci sono livelli da voto 10. Almeno a livello grafico. Guarda Spiro. Guarda Spiro che è lì. Guarda Spiro. Mi trollano. Mi trollano con Spiro. C'è uno Spiro in frottofondo. Spiro e Malgioglio praticamente. Questo qui è Malgioglio in versione Spiro. Malgioglio cubetto. Il regalo. Ah, ok, ok. Eh, non sono del PC. Poi lo farò. Ok. Puff. Bonk, bonk. Adesso scoppia, adesso scoppia. Io non so, ma sti livelli sono veramente belli. Ci sono le logic. Sono tanto sensibili. Torno con le altre. Ah, le cuffie super sensibili. Quelle che usi tu, ok. Eh, guarda, è incredibile. Io queste qui mi fanno sudare. Mi schiacciano anche l'orecchio. Però sono... Cavolo, l'ho pagate 50 euro queste cuffie. Che non avevo neanche bisogno di comprare. Ma volevo io aumentare la qualità. Quando faccio la live da PlayStation. È come se sentissi un tuono. Ma adesso si sente bene la mia voce, penso. Camerto, ma pigliati le Pulse. Le Pulse costano... costano come una PlayStation, le Pulse. Altro che... costano 300 euro almeno. Le Pulse... Pongo. È come se sentissi un tuono continuo. Ti credo, ti credo. Come si arrabbiano questi cubetti? Cubetti mal gioio. E qui? Cavolo. Tutto tranquillo, eh. Tutto normale, ok. Ma sto bidone della monnezza? Fala tu... Vieni qui, nicio, micio. Che succede al ghi? Al nicio? Ho preso un micio? Perché ho preso un micio? Ho preso un micio. Ora ho risolto. Bene, bene, grazie. Grazie, grazie. Meno male. Ho fatto bene a dirlo. Avevo volume altissimo il microfono. Ma guarda che bello sto livello. Mamma mia. Finalmente Crash mi dà soddisfazioni. Penso metà gioco, ma le soddisfazioni le dà. Sto livello è proprio bello. È proprio bello, bello. Cavolo. Creativo. Sarà difficile, però. Cappellaio matto? Che fa? Mi spara nel cannone? Bellissimo. Ma quanto è bello, veramente? Ma quanto è bello? Cioè, ditemi voi, questi livelli non sono belli, stupendi. A me ci sono molto che spavano. Sembra fatto in un palazzo di Roma. A Roma sparano così. Non pensavo che sparassero con la tromba a Roma. Ok. Che bello. Ok, vediamo un po'. I cubetti Malgioglio sono simpaticissimi, comunque. A ritmo, a ritmo di musica. Nooo, c'è un crash derp. Con gli occhi tutti strani. Che figo sto crash. Ok. È una citazione medieval, questa? È una citazione medieval, secondo voi? È Sir Daniel Fortesk? Magari no. Chi è questo? Che spavento! Sì, posso colpirlo. Le fiamme di fuoco. Questo? Una tastiera? Posso suonare? No. Eh, ma c'è la musica sottofondo. Voglio farlo, perché, per il bene della scienza, non va su queste. Nooo, non va. Allora niente, non si può fare. Peccato, peccato, peccato. Ci speravo proprio. Si sono... Sparano trombe di cabate. Le note musicali sono in situazioni a rete aberti. È ovvio, ovvio, è una situazione a rete aberti, ovviamente. Palese, palese. Cavolo, la conoscono benissimo a rete aberti, questa. È ovvio, ovvio. Bravissimo, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, Andre, come sempre. Eh, cavolo, a rete aberti. Nooo. Ci sono, sparano. Sembra a livello fatto... Questo è fatto bene anche quello di Raimann, il livello dove suona una nota di ogni cosa. C'è un lavoro dito enorme. Ho visto un video dove la band musicale lo creava. Che ragazzi... Che artisti, ragazzi, farlo al tempo giusto. No, no, infatti, infatti. È una roba impressionante. Pensa che Raimann Legends lo chiudono. La Ubisoft lo chiude i server. E avendo il DRM non sarà più giocabile. Raimann Legends. Annaggia, ho sbagliato qua. Chiudono Raimann Legends. Perché la Ubisoft sta chiudendo giochi. Anche Assassin's Creed Liberation non sarà più giocabile fra poco. Infatti l'ho scaricato. Ho scaricato a Creed 3 con dentro Liberation. Così da poterlo fare... Po, 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 po. Sentite, eh. Il cliente dell'hai selezionato. Non è un momento raggiungibile. Nooo, mi ha preso. E la batteria. Batteria e gran cassa. Ovviamente una citazione a Cassano, eh. Ok. Vediamo un po'. Uno. Due. Oh! Attenzione. È arrivato nei primi dieci d'Italia un livello online. A Raimann. Eh beh, sì, eh. È triste sta cosa che la gente compre i giochi e non può più giocarli. Chiudono 18 giochi la Ubisoft. Nooo! Stavo a saltare il momento giusto. Il fuoco d'elettorumbre c'è la regia di Dracan. Ovviamente, ovviamente. Ovviamente. Wow! Ecco qua. Quando il gioco si è fatto super difficile ormai. Ho scoperto che si può giocare in due. Anche con SharePlay. Sarebbe bellissimo. Ma va! Non l'ho visto. Kevin, la rapina. Ciao, ciao. Grande Kevin. Grande Kevin. Allora, fai fare rapina dal cellulare perché oggi non ho computer. Eccoci qua. E niente, ho tutta la faccia a K.O. Un secondo, eh. Sto fiatando un attimo. Sto fiatando un attimo. Avete pazienza. Le cuffie veramente in condizioni atroci. Ma nooo. E' bellissimo sto livello, comunque. La cosa più bella che ho visto finora nel gioco è proprio questo. E' artisticissimo, veramente. Anche se sembra molto una roba stile Disneyland. Stiamo usando la skin di Crash originale. Oh. Vero, molto fiat. Come mai niente PC? Sì, sì, ovvio, 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 ovvio. No, beh, aspetta. L'audio della Play è normale perché sono da PlayStation. È normale, è normale. Però ho le cuffie nuove, che sono cuffie professionali. Cavolo. Sono preso cuffie con microfono professionale per la PlayStation. E la qualità dovrebbe essere molto alta, molto alta. Checkpoint, meno male. Meno male che ha avuto il checkpoint. Ma dai, ho perso la vita qua. Sto pezzo è terribile. No, non è qua il sto pezzo terribile. È dopo, dopo che è terribile. Sto pezzo era pure facile. Vero, ossia capisce dal tono in sottofondo. Tuono. Eh, su cuffie molto buone, comunque. Ma nooo, morto qua. Se altri usano cuffie può... Lo sentono. Sì, sì, esatto. Ma infatti, io sento un audio buonissimo. Ce l'ho in cuffia. È incredibile. Certo che, anche se è bello artisticamente, il livello non è più facile. Non è per niente più facile. Via te! L'ho preso, l'ho preso. Checkpoint, checkpoint! Checkpoint. Che bello. Ti ascolto il cellulare, quindi non posso sentire troppa differenza. Ah, ok, ok. Studio jolly. Se sì, vuol dire si assume tutti i suoni. Esatto, esatto. Ok, cosa devo fare qua? Ma va! Attenzione. Mi sa che rimarrò con Crash e non metterò Fall Guys oggi. Volevo far Fall Guys, ma... Sono proprio preso. Sono proprio preso a sti livelli. Mi stanno... Mi stanno divertendo. Ma porco cane... Allora, tutto tranquillo. Per scegliere le cuffie per Warzone, per sentire i passi della gente, sono su pieni. Invece mi ha formato abbastanza bene. Eh, beh, è bella sta cosa. L'unica cosa è che il volume è un po' basso delle cuffie. Vorrei alzarlo di più. Fammi vedere se si può fare. Scusatemi, eh. Si può, si può. Alzato, alzato. Eh, beh. Incredibile. Errore sconosciuto. Che strano, Stefano. Dimmi cosa volevi chiedere. Fall Guys è una scalata per una skin odiosa, solo in quattro. La gente fa uscire di testa e non è capace. Ah, ok. Ma io... Boh, io ho preso quello che mi interessava. Che era i punti per la prossima stagione. Ciao. Posso dirti che sono soddisfatto. Pam. Uno. Due. Tre. Quattro. Mi ha schiacciato. Non c'è nulla qua. Non ha preso, non ha preso il salto. Eh, ho visto, ma che stupidaggine. Lasciami dire, ho visto Undertaker, Asuka e Xavier Woods, che è un gran giocatore comunque lui, eh. Appassionati ai videogiochi. Ma non hanno senso, ma non hanno senso. E' per vendere di più, ma... Ho sbagliato. Vabbè, ormai. Mo? Che faccio? No! Ma basta! Si è frizzato. Cosa, cosa? Cosa si è frizzato? Cosa si è frizzato? La live? Si è frizzata la live? Ma a me non si è frizzato. Non lo so, Coin, io... Me lo sto guardando sul portale, sul cellulare. Strano, strano. Può essere che magari ha avuto un micro caldo di connessione, perché con sto caldo non ci può anche stare. Quattro, cinque, pum, pum, pum. Ah, ma si fa così, ma è facile, allora. Io non capivo. Ma certo che è facile. Ma io pensavo fosse difficile, invece. Meglio che faccio così. Vada, eh. Mi sento più sicuro qua. Ah, alla fine! Max, non ho curioso, da quanti anni sono passati a acquistare Alexa? Due anni circa. Avevo una brutta sensazione due anni fa. Sempre legata ai problemi di caldo. E allora volevo farmi un regalo. E ho detto, cavolo. Perché avevo letto l'articolo... Avevo letto l'articolo sul... L'articolo sulle... Sulle intelligenze artificiali. E avevo visto la cosa di Alexa, che bella! E volevo assolutamente... Volevo assolutamente... Come dire, averla... Ah, me lo ricordo quel periodo. Era un periodo che stavo veramente male, cavolo. Un periodo che veramente... L'ho vista brutta, ragazzi. L'ho vista molto brutta. Che poi è stato il periodo che poi... È arrivato i... Andre quel... Il giorno dopo aveva donato i beat e ho pensato, cavolo. È stata bellissima sta cosa, cavolo. Pensavo proprio passare dallo star malissimo. Perché veramente... Ho avuto situazioni... Terribili... Dovute probabilmente a... Covid. Credo che fosse il Covid. Non era ancora certo, però. E quindi, in pratica... Per sta cosa... Ero preoccupatissimo. Ora devo andare. Grazie, grazie casco. Se schiavo dei servizi... No, non è quello. Mi piace. Ma no, ma... Ma non fa niente. Ma non si... Guarda che si... Non si attiva, non si attiva. Cavolo, l'hanno fatto... L'hanno verificata. Non si attiva, non si attiva. Anche servizi segreti per sta cosa. Impossibile. Ma quella è una cosa che non è vera, lo sai. Vabbè, ne prendiamo 13 su 18... 13 su 18 va bene. Ma contento. Ciao Fabrizio. Cavolo, manco ti risponde alle domande che le fai. Guardi. Ci manca solo che sia i servizi segreti. Allora, questo qua... È pericoloso. Bello però. Io sto giocando molto a Stray. Il gioco del gatto. L'avrete sentito sicuramente nominare. Stray. Hai visto, Dry? Mi ci... Mi ci fate? Adio. Eeeh... Non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Non è per niente una bella cosa. Non sono per niente contento. Non è per niente una bella cosa. Perché... La rimetteremo noi. Con le nostre tasche. Non è per niente una bella cosa. Guarda. Hanno usato la cosa come pretesto. La cosa peggiore potrebbe succedere. TNT. Bip, 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 boom. Come mai TNT, bip, 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 boom? Ah, la TNT che esplode. Giusto, giusto. Io non sono contento per niente. Anzi. Penso che sia un disastro. Poi... Poi piangiamo. Poi piangiamo. Che cavolo. Gemma nascosta trovata. Che bello. Cioè, veramente. Io non sono per niente contento. Di sta cosa. Non dico che sono a lutto. L'ho visto da Andrea. Quello con la re coniglietta. Quel gioco del gatto. Se a me ti piace per quello che volevo dire. No, ma ci sto giocando. Oggi penso di essere verso metà gioco. Ho fatto il capitolo 4. È bellissimo. È bellissimo. Lo sto amando. È già probabilmente entrerà nella mia top 10 preferita. Io per quel figlio di E ho pianto due anni. Quale? Quale? Quale, Andre? Perché non lo porto? Perché me lo sto giocando per conto mio la sera. Un po' alla volta. Non ho proprio tempo. E scavolo, è già tanto che sono riuscito a fare una live. E la farò anche domani mattina. Volevo godermelo. Il drag... Ah, quello! Ho capito. Io... Io credo che piangeremo di più fra... Fra due mesi. Quando ci tassano alla follia. Tanto. Tolto uno se ne fa un altro. Non pensare che... Può migliorare la situazione. Per quanto è carino a vedere. Regalo per Jack. Parrucche rosa. Scena con Brunette. No, quello... Oh, grazie. Rane dal cielo. Una gonna. Ufa. Non gioco a cal... No, il colpo è lui che è andato... No, 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 no. Eh, ho capito, ma... Era garantista. Ci sono delle meccaniche che anche a livello europeo... Grazie a lui ci danno... Cioè, qui c'è il rischio che ci tolgono dei fondi. Ma va che facciamo la fine della Grecia, eh. Facciamo la fine della Grecia. Qualche anno fa, eh. C'è poco da ridere qua, visto che... Sarà un disastro. Fallo di... No, quello no, Cla... Quello no, comunque. Tanto si sa già che vincerà Miss... Miss... Miss Vaticano, come la chiamo io. Miss Vaticano. La signorina... La signorina che c'è gli amici... Negli altri prelati. Vincerà. La signorina bionda. Quella che dice... L'Italia è uno stato cristiano, cattolico. Ok, che... Vince sicuramente lei, quindi. Sta vincendo la cena? Veramente la cena? Ma non voglio fare la cena con lui. Beppe Crittano è innocuo, eh. Non è che può farmi del male, però... Se me la paga lui... Ma non mi sta simpatico quello. No, l'Alexa Link. No, l'Alexa Link. Bello, va, te l'ho detta, l'ho detta. Mi divertiva questa, Stefano. Molto divertente. Vince lei, vince lei. Prima e prima. Quella lì, cavolo... Cavolo. C'era una pressione... Da parte... Degli altri prelati per far sto cambio. Cosa? Cosa, cosa? L'Alexa Link, l'ho detto, l'ho detto. Io quella... Ma... Ma... Claa! Non è così terribile, eh. No, non si può dire! Non posso cancellare qualche mod. Cancellatemi quel messaggio. Non si può incitare a sta cosa. Mi dissocio, mi dissocio. Claa, cancella per cortesia che non posso ottenere quel messaggio. Può anche far ridere, ma cavolo... È molto delicato. Poi questa è anche una che denuncia Quindi... Ok. Ma cos'è sto livello? No! Ma è agghiacciante! Pensate a farsi... Farsi tutte le casse, qua. Scappo io. Ciao, ciao! Ma ha vinto la cena! Ho detto... Ho detto... L'Alexa Link! Eh... Ho citato il tizio Link, ho citato. L'Alexa Link. Ho citato quello. Comunque sì, che vinca uno, che vinca l'altro. Io non è che tifo per nessuno, eh. Proprio perché... Quel motivo lì, visto che magari ho detto... Magari... Visto che comunque tanto si andava comunque a votare. Ma perché si va a votare nel 2000... No, 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 sono morto! Tizio Caio Sempronio. Eh... Eh... Eh perché sì, è esclusivo suo. Eh... In compenso potete sentire tranquillamente questo sound... Che è... Giocone. Sto mettendo, eh. Ma va! Muore di nuovo! È un bel livello, ma non voglio passarci l'intera vita qui dentro. Però... Chissà se riesco a finirlo. Vedete? Ma va! Ok. Ecco qua, andiamo, andiamo. Piano, piano, piano. Così va bene, così va bene. Ma fin qui ci arrivavo anche prima, eh. Cioè non è questa la parte che mi preoccupa. Eh, eh, eh... Che... Tecnicamente... Che poi lei ha pure detto che la gente... Deve votare, quindi... Devono, fine, imperativo. Non puoi fare quello che vuoi. Non è più un diritto... Questa è già una che ha i diritti... Quindi vabbè, quindi... Non lo so, io non voglio parlare di politica, però ragazzi... Eh... Diciamo che non è il massimo, credetemi, non è il massimo. Non è veramente il massimo questa situazione. Ok, va bene Stefano. Va bene, va bene. La prendo... L'accetto, l'accetto la cosa. Voglio... Sto fake ride... Che poi non è un fake ride. Con chi uscirebbe clà a cena? Naila Rose. Non c'è Naila Rose. Georgina M. Boschi. Ex sindaca di Roma, ovviamente. Maria... Maria Stella sì. Tutte loro insieme. Tutte loro, tutte loro. Tutte, tutte. Cla... Cla... Ora devo scappare. Grazie Manu. Grazie di tutto. Grazie a compagnia. Buon proseguimento di giornata a te, Manu. Grazie davvero. Che bel gioco che sto facendo, cavolo. Sono quei giochi che ti rimangono impressi, poi. Ecco, questo è il pezzo che mi... Ce la posso fare, guardate. Ma no, la tromba. Ciao Manu. Purtroppo è pensare realmente in italiano medio. Basta la... E tu ti... Eh beh, lo so, lo so. Sta cosa è vera, comunque. Emanuele, se c'è ancora... Eh, ma c'è, c'è. Ma sta lavorando. Stefano, sta lavorando. Lei... Lei lavora a quest'ora. C'è, c'è. Però lavora. Avrò gli incubi stanotte, questo livello. Avrò gli incubi. Sicuramente. Già stanotte ho sognato le Spice Girl sui robottoni che volevano ammazzarmi. Mi piace molto. Ho capito che ce la posso fare, guarda. Ok. Ok. Siamo tutti vivi. Attenzione. No, no! Qua, ok. Vai. Oh, checkpoint. Alexa, chi sono le Spice Girl? La bionda? E' vero, più tutti i tempi. E' vero, è vero. Cultura pop. Ah, che è sto livello? Ah, devo calarmi sotto. Ma sembra veramente bello, cavolo, sto pezzo. Sarà il finale, penso. Vito. Brr, 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 brr. Non so che parola è, ma... Ma è una battuta, eh. Hai sognato una bionda? Beh, io... Alla fine catturavo... Alla fine vincevo. Distruggevo i robottoni. E catturavo Jerry. Ve la ricordate? Quella con i capelli rossi. Quella che ha fatto It's Raining Man. Quella lì. Jerry Halloween. Eh, praticamente diciamo... Ehi, 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 ehi. Non dovevi farmi sta cosa. Mamma mia. Si sono chiaramente ispirati a Super Mario Odyssey, eh, per sta cosa. Sto livello è... Ha preso molto da Super Mario Odyssey. Ha preso molto da Super Mario Odyssey. Grande Ele. Applausi per Ele. Secondo te è la parola che dice C con due Z in mezzo? Cozza! 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 Esatto, cozza. Certamente. Vito, cozza. Eh, lo so. Eh, ci sarebbe anche... Ci sarebbe anche Crozza. Maurizio Crozza. Chiaramente. Parola... Chi è che non dice cozza? No, lo so, lo so. Incubo di Jack. Incubo di Jack... E non riusciva a finire i livelli. Preso dall'uomo in Whatsapp. Ma no, è una buona persona quello. Non farebbe mai cose brutte. Vivere in Sudan. No, perché è un bel posto. Sindaco di Novara. No, no, mi divertirei. Ti assicuro che mi divertirei. Ti assicuro che mi divertirei. Sindaco di Novara, guarda, farei delle cose divertentissime. E dicono... Ma chi ha tolto? Che questa città è vuota? Eh. Cioè, ci toglierai tutte le robe industriali. Capo di Five Star, diciamo così. Sì, quello è essere capo e cena con Bellu Figu G.U. No, Bellu Figu... Bellu Figu non è così terribile. La quarta, perché lì ti spanno una testa così. Mamma mia. La quarta. A me non piacevano. Ah, mi ha chiesto chi sono da Lex. E se ho risposto io... Ma non erano cinque le Spice Girls? Non erano cinque. C'era Vittoria, Jerry... E le altre tre, no? Non erano... Non erano in cinque? Ah, io pensavo parlarsi delle... Delle tizie che aveva messo Klan nel sondaggio. Le Spice Girls... Piacere che apprezzi. Ma io apprezzo. Mel C, Mel B, Emma, Jerry e Victoria. Esatto, esatto. Sono cinque, sono cinque. Spice. Falato Victoria è diventata la moglie di David Beckham. È diventata la... E forse si è preso un titolo nobiliare, mi pare pure. Tipo come duchessa di qualcosa. Troppo... Mel C, sì. Mel C era la migliore, scoperta. Però io... Non è andata male neanche con Jerry. La Jerry quando era giovane. Insomma, andava bene a quei tempi. Duchessa... No, non posso leggere la sta cosa. Dutessa del co... Klan che canta le loro canzoni ce lo vedo. Ma io guarda, io Klan ieri sera... Abbiamo iniziato a giocare a Formula 1. Iniziato a sentirgli dire... If you wanna be my lover... Ta 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 ta... Lo sentivo che faceva così, ovviamente. E quindi... Ovviamente ci stava, ci stava. Perché non dovrebbe cantare le Spice Girl? Ci stava benissimo. Klan in realtà... Canta una sola canzone. Cos'è sta roba? No! No! Oh! Passato sto pezzo e non è finita. Mamma mia sto livello! Mamma mia sto livello Stefano che fatica! Un follow Klan... No! Qualcuna è bella. Scusa se ha avuto dei figli vuol dire che ha preso. Eh lo so, un po' sì, un po' sì. Una poi se... Però una... Morca. Puoi usarlo Morca? Puoi usarlo? Andre puoi usarlo? Puoi usarlo il sound del Morca? Puoi usarlo? Puoi usarlo? Mica segreto. Puoi usarlo quando vuoi quel sound. Pamme! Arrivano! Puff! Puff! Ah vaffanbrodo! Ok. Siamo quasi alla fine, dai. No! Cosa? Bip! 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 Non posso dire certe parole. Qualcuno mi metta un Pino Scotto. Punto schiamativo Pino Scotto. Qualcuno. Vi prego, vi prego. Abbiamo bisogno di un Pino Scotto. Ma va, non lo piglio più sta cassa. Non ti prendo più cassa. Non ti prendo più. Comunque, ma sai che ieri sera abbiamo fatto delle cose incredibili? No, Kla non canta proprio, Kla. Non lo sento mai cantare, Kla. È vero, vero, non canta nulla. Ma, di nuovo, il cappello! Lo so, lo so. Non canta, non canta quelle. È vero, è vero. Dopo le Spice Girls, Pino Scotto. Ma non è involuto, è... È più evoluto del 90% della gente. Almeno lui parlava di... Almeno lui parlava di ambientalismo e di animalismo. Raccontava cosa succedeva nel mondo con gli animali. Cavolo, una delle persone più animaliste che ho mai conosciuto. Piano Scotto. No, Pino, Pino, Pino. Solo Pino. Grazie, Ele. Solo Pino, solo Pino. Quando qualcuno gli paragonò Paolo Meneguzzi a Jim Morrison. Poraccio. Grazie, Ele. Sono vivo, sono vivo. Ma non è... Ma no, ma quello è il... Ma... Sì, ma... Eh, su alcune cose sì, ma perché è rimasto indietro, però... Incubo di Kla. Capo del PC. Diventare capo del... Ma perché? No, sarebbe bello. Abitare in Sudan. Diventare big. Fan di Paolo Meneguzzi. Eh, io dico l'ultima. Kla fa il gioco del mutismo e rassegnazione. Grande conoscitore di musica, Pino. Fa ancora bella musica. Ma non ha... No, ma non rassegnarti, Kla. Non rassegnarti mai. Devi dominare. Devi dominare. Ma che rassegnarti? Ecco qua. Ho già perso una qua. Ma perché? Incubo di Kla. Io dico quello di Meneguzzi. Ho dei pezzi di Meneguzzi. Ma io... Boh, l'ho sentito l'altra sera su Spotify. Confermo quello che penso. Popstar italiana che si è dimenticata subito. E fa ancora musica adesso, eh. Fa ancora musica adesso. Ma tutto... Ma non potete chiamarlo Rockstar. Comunque non fa rock. Ok, che il rock è un po' tutto. C'è il pop rock, però. Ma mi gira la testa con sto livello. Uh, com'è veloce. Oh, è finita. Ripeto, sto livello spudoratamente piglia... Piglia Super Mario Odyssey. Cavolo, è Super Mario Odyssey sto livello. Leggo su, leggo su. Ah, Stefano. Sto scaricando Rocket League Size Whip. Però oggi mi faccio ancora preparazione. Non ho mai giocato. Non gioco mai su cellulari. Ho già i cellulari super riscaldati così. Figuro, ti metto a giocare. Poi ti brucio la batteria. Eh, Stefano. Ho finito il livello, eh. Se vuoi fare il fake ride. Che poi non è fake. È vero. Anche una persona è sempre un ride, eh. È sempre un ride anche con una persona sola. Anticonformista. Dove sono andato? Eh, i nastri... Eh... Purtroppo... Qui non c'era. Cucina casalinga. Perché c'è Dingo? Perché c'è Dingo? No, come usi Dingo? Non ci credo. Ho visto... Eh, grazie. Mi estengo. Eh, ma li fa lui, eh. Ele li fa lui i sondaggi, eh. Quindi... C'è... C'è la sua mano magica. Non è una roba offensiva. Ovviamente... Sono tutti incubi. Grazie, Stefano. Non mi piacciono i sondaggi. Aspetta che ci metto la musichetta. Ci metto la musichetta che hai fatto il sondaggio, eh. Scusami. Cioè, ci hai fatto il ride. Quindi ci metto la musichetta. Domani mattina ritorno con le cuffie. E ci metto questa. Perché c'è Dingo? Guacamole. E' ancora la vecchia musica del ride. Iperfagia. Cosa vorreste su canale 5? Live di Elisir Podcast. Fake taxi, sì. Artigianato con Ed. SR BD. Storie di Novara. Fake taxi. Cavolo, ma sapete che bello. Grazie. Mi astengo. Ma la Ele fa bene, fa bene. Non è obbligato. Nessuno è obbligato. La Ele poi. Moderatrice di Clalo. Posso usarlo. Cosa fa? Vola? Vola! Numero uno! Grande. Bello sto livello. Mamma mia. Ma cos'è sto livello epico? Aspira. Che aspiro? La TNT. Proviamo? No. Ma è bellissimo sto gameplay. Boh, spacca tutto. Saltare su una cassa TNT. Roba da Bandicoot. Ma quanto è divertente, dai. Quanto è divertente. Ma va via te. Roba da Bandicoot, esatto. Ma come ti astieni? In che senso 49 cuori? Per un metallaro anni 70, è normale che lo dica. Sbagli rimanere indietro, sta cosa è normale. Sbaglia, sbaglia però. Mi ricordo che Scrotto, ai tempi, disse che Albertino non sa fare musica. Noi si... Chi è Albertino? Scusa, quale Albertino? No, aspetta. Lui ha... L'ho dato tantissimo J-Ax. Ha dato tantissimo J-Ax. Ha detto che è una grande musicista e una grande persona, ad esempio. Ma se attiro qua? Cucu. Esplose tutte. Ok. Il signor... Ha vinto Fake Taxi. Così vedremo... J-Ax ha fatto un pezzo con Shade. J-Ax ha fatto un sacco di pezzi con un sacco di gente. È un musicista molto creativo. Molto, molto, molto creativo. Per me è veramente uno dei top creativi. Cucu. Sto livello mi piace. Mi sa che faccio anche tempo a finirlo, guardate. Anche se mi fa venire in mente delle brutte cose bannabili, se le dico. Sto livello. Ok. Ok. Posso planare? Sì. Aspiriamo tutte le mele o le pere che sono. Dovrebbe essere pere. Ma no, mi uccide quello. Ho capito adesso. Porre succhia... Eh, ma clama! Ma mi leggi nel pensiero. Tanto siamo sempre nella stessa linea d'onda, dire te. Mannaggia. Abbiamo sempre gli stessi pensieri. È grave sta cosa. Pensiamo sempre alla stessa cosa. Apple, Apple. Sono mele, sono mele. Mele, ok. Sembrano mele, infatti. Le pere sono più lunghe. Esatto. Sembra certo ASMR, questo. No. Eh, mi becca sempre. Leggi su Morca. Cosa non ho letto? Dimmelo se è così. Non sai chi è DJ. Ah, ma DJ Albertino. Io pensavo Alberto qualcuno. Ah, DJ Albertino lo conosco. No, no. Conosco. Conosco. I DJ li conosco. Li conosco, li conosco, i DJ. Li conosco, li conosco. Assolutamente. E che non avevo capito che non c'era scritto DJ. Quindi pensavo, che ne so, Alberto Castagna. Che cavolo ne sapevo io. Che bello, che bello sto livello. Ma sono ancora all'inizio. E' tanto lungo come livello. Vedendo il numero di casse si direbbe di sì. Oh, che bello. E' andato giù. Vorrei avere un confronto privato con l'ex sindaca di Roma. Raga, vi lascio il telefono di Giotto Pace. Va bene, grazie Stefano, compagnia. Qualche anno fa, un programma su Sky, DJ, condotto da Albertino, altri due che non ricordo. Tipo, Scout Tannen, due ragazzini paurosi. Va bene, va bene, se trovi. Assolutamente sì. Ehm, che succede? Stiamo usando un villain. Ma no, mi è caduto giù. Ciao Stefano. Fa partire da qua, quindi va bene. Non è andato. I livelli quando li fai la prima volta sono difficili. Ole. Ok. Mi è scattato subito il planare, non so perché. C'è qualcosa che non quadra. Boom. Ok. Ma stavolta è scattato giusto. Bella. Signora, le casse, signora. Ecco qua. Bello, mica male sta cosa. Ah, dovevo tirarla qua contro, fa lo stesso, non prendo tutte le casse. L'importante è che lo finisco a sto livello. Ok. Ok. Qui? C'è una strada anche qua. Zona segreta, immagino. Ci scommettevo che c'era qualcosa, ci scommettevo. Ed eccola qua, la gemma nascosta, l'abbiamo presa. Bene, bene, dobbiamo finire il livello. Grazie per il ride, Stefano. Grazie per il ride. Grazie, ciao Stefano. Grazie ancora. Io. Ok, colpito. Proviamoci qua. Questo livello sembra tipo Louisiana, sembra. Avete presente? Louisiana. Assomiglia a Louisiana come località questa. Ma no. Non partiva. È partito, è partito. Tranquillo. È partito. Devi premere tu parti. Se non parte, parte da solo dopo. Non ti preoccupare. Grande Dingo. Numero uno è Dingo. Era uno dei boss dei vecchi giochi. E dai. Fa proprio caldo, eh. Fa proprio caldo. Mi metto questo sul 2. Ho già il condizionatore sul 3 e non arriva aria. E il ventilatore sul 2. Faccio mai più pomeriggio d'estate. Mai più, veramente, ragazzi. Mai più. Non ce la faccio. Comunque grazie mille per esserci lo stesso. Anche se... Vedete? Ah, è così. Ma no, è morto! Sai chi è l'attrice Chiara Francini? Lei è la migliore. Ma posso googlare? Posso googlare? Probabilmente no. Eh! Eh! 110 lode, eh. Mica male. Mica male. Non l'ho mai vista recitare, probabilmente, però. Per me, ti livelli nel Louisiana. Oh, mancato. Oh. È andato, è andato. Stiamo attenti qua, che non sarà facile. Questo salto è caduto. Mamma mia. Rischiato, eh. No, una buona idea, una buona idea. Sbagliata. Ma no! Ok, siamo arrivati qua. Ah, ma spara questo! Mamma mia, sta musica veramente fa... È una swamp rock. È il rock delle paludie. Anche se fa caldo, io tengo il minimo. Fai bene, le fai bene, fai bene. È che io sto facendo un'attività definita impegnativa. Non è impegnativa come andare a zappare, ovviamente, però. È comunque impegnativa, perché si suda, ci si concentra. Nooo, l'ho mancato. Ok. Ehi, dicono proprio, ehi! Bello! Bello, sì! C'è... C'è il comando. E qua c'è qualcosa? No? Ah, ma c'è uno che ti spara, va che roba. Mi ha preso. Non gli posso tirare la TNT, vero? Esatto, non posso tirare la TNT. Ti dono 50k a bit per... Eh, ma no, ma l'ho preso un condizionatore. Il problema è che non basta, non fa niente. È un condizionatore portatile piccolino, che non inquina. Il problema è che devi starci attaccato, perché funziona. Bel livello, questo. No! Eh, devo andare a prendere questo, vero? Sì. E qua sono... Sono cavoli amari? No, non sono cavoli amari, basta fare così. Eh? Ok, se la possiamo fare. Ma porco cane, alla fine! Vai tranquillo, Andre! Me la sto gestendo in una maniera o nell'altra. Un modo... Veramente. L'importante è che oggi volevo fare questa live. Costi quel che costi. Per domani sono riuscito a cambiarla con coin. Eh... Lui fa... Lui fa il pomeriggio. E io faccio la mattina. È proprio divertente sto livello, eh. Tanto divertente. Sto gameplay lo sto adorando. Che non si riesco a portarmela dietro la cassa di TMT? Sì. Posso, posso. Buono. Mi semplifica la vita sta cosa, eh? No, questo no. Ma dai, morire così. Quello fisso, c'è... Eh, costerebbe un casino l'occhio della testa, il... Il gas. Magari. Ma mi basterebbe anche 25 gradi fisso a sto punto. Ok, vediamo un po' qua va. Che brutto. Perde così tanto. Bello sto livello, però. Ripeto. E lì non so come far. E lì non so come far. Posso mica sparargli tutti così? Non credo. Oh, ha funzionato invece. Che bello. Checkpoint. Ma quanto dura sto livello? Quanto dura sto livello? Allora, il mouse ciocca anche USB davanti. È il mouse, è il mouse. Sì, sì, è il mouse. Ma non so perché quell'hard disk ti dà problemi, però. Grazie per il GG, ma non è finito. Coin non è ancora finito. Quasi, quasi. Perché non la piglia. Perché non piglia sta roba? È bello usare bingo, dai. Il cavolo. E non è che sia diventato buono, eh. Io l'ho a 19. Ci differenza ovviamente in casa di sera. Ci credo che è troppo con sto caldo. Se andiamo avanti così, non basta neanche con il senatore. L'unica pena è che quando esco... Eh, vabbè, ovvio, eh. Ovvio, ovvio. Eh, farebbe comodo, guarda. Un bel condizionatore. Sicuramente farebbe comodo. Non tanto... Non tanto per le bollette, ovviamente. Ma qui non devo prendere qualche cassa? Sì. Ma perché sono morto? Gli ho sparato, io. Eh, ma a 19 gradi deve essere pazzesco. Non me ne frega nulla delle casse. Voglio solo andare a finire il livello. Oh, che spavento. Esatto, esatto. Mi sono spaventato, mi sono spaventato. Cla... Cavolo. E pensare che ho abbassato il volume di Alberto Sordi, eh. Gli ho abbassato il volume. No! Ma la cassa di TNT sulla testa. Lo userei se costantemente è un mesetto su 12. Esatto, esatto. Lo userei costantemente, lo so, lo so. Io ce l'ho avuto il condizionatore, ma non mi sono mai trovato bene. Mi veniva mal di schiena. Non è mai stato tanto salutare per me. Ce l'avevo anni fa. Condizionatore più classico, ma non quello regolabile. È un condizionatore... Buono. Però poi... Andava più bene. Era deumidificatore, sai. Perché muore? Perché muore? Ce la possiamo fare, dai. Quasi 700 messaggi nella live di oggi, eh. Ma mai ho sparato! Ma porco cane... Notte l'ho dimenticato acceso, ho mal di schiena. Ah beh, sì, infatti, infatti. Ovvio che ti viene mal di schiena, è normale di notte. Perché la notte è comunque anche fra l'umidità e altre cose. Non ho bisogno di TNT per questi. Non ho bisogno di TNT per loro. Ecco fatto. Checkpoint! E non è ancora finito il livello, eh. Dite che ce la faccio? Dite che ce la faccio? Sì? Non c'è un altro checkpoint. Bruta cosa. Mi serve la TNT di questo. O di questo. Questo qui. Ok, appena in tempo. È andata, è andata. Ma c'è ancora questo. Ma cos'è un'uscita segreta? Ciao! Oh, Yakamoto! Grandissimo! Domani mi sposto la mattina. Dite che posso andare qui dentro? Ho paura che succeda una cosa brutta e ci provo. No. Sembrava una roba super segreta. Eh, che cavolo. E invece si muore. Mi dava l'impressione di uscita segreta, per come era stata messa. Non ho proprio capito, vabbè. Comunque andiamo avanti. Come stai, Yakamoto? Dite che ce la faccio. Ho detto con l'accento... Dite che ce la faccio. Eh, beh, dite che ce la faccio. L'accento torinese, sì, può essere. Non ho l'accento marcato, anche perché non sono di Torino. Ti piacciono questi bomba? Finito! Finito il livello! Sì, sì, è andata bene. Mamma mia, Yakamoto. Che giornata tosta. Domani... Grazie per il follow, Lore Palermo. Benvenuto. Sei un fan di Crash Bandicoot 4. Che tipo di giochi ti piacciono, se posso chiedertelo. E grazie per il follow. Gentilissimo. Siamo a 479. Sei del Sudan. Non credo, Cla. Però sudo. Mamma mia, che bello, Dingo, dai. E penso domani mattina, penso che... Probabilmente andrò avanti di nuovo con Crash. Sono indeciso con... Sono indeciso con Metal Gear Solid 5. Ah, io ho iniziato Phantom Pain. Dovrei provarlo online. Dovrei provarlo. Dovrei provarlo. Assolutamente. Per sbloccare il berretto di Big Boss. Freestyle per Crash. Eh, freestyle, freestyle. Oggi non ho il fiato, altrimenti lo farei volentieri. Allora, quindi c'è la linea temporale di Dingo? Ok. Buono sapersi. Livelli con Dingo, quindi. Tu, io e il Bayo, eh. La Louisiana. No, a me piace da impazzire sto livello. È bellissimo, è bellissimo. Grande lore. Hai ragione, hai ragione. Freestyle in inglese. Sì, sì. Freestyle in inglese. Ah, in inglese? No, beh, è difficilissimo in inglese. Difficilissimo. Dicevo, a me piace come gameplay, mi diverte tanto, perché è quel gameplay ignorante, grande e grosso, che piace a me, quello che spacchi tutto. Cla, fammi sapere tu poi, eh. Fammi sapere. Fammi sapere tu.